avete visto che rovesciata ragazzi ma che rovesciata ha fatto cioè Ibrahimovic ma avete visto che rovesciata ha fatto ragazzi il Milan vince 2 a 1 con gol di i primi due non lo so però il secondo del Milan non lo so Ibrahimovic ragazzi una rovesciata pazzesca 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 ragazzi Milan che gioca bene al 45esimo non si capiva tanto bene se era ricordi peruginese ma secondo me non ci stava così tanto quindi hanno fatto palla contesa comunque il Milan ha giocato bene ragazzi l'ho detto a tutti i miei amici di Klas però tranne a voi il Milan forse non l'avete capito non pensate che anche quest'anno vince la Juventus se il campionato lo vince il Milan ragazzi eh sì lo vince il Milan il campionato ma avete visto non ha persa una non ha mai perso una partita quest'anno cioè raga vabbè per non farlo durare tanto il video ci stappo qua poi io commenterò più ragazzi grazie a tutti